Un altro anno di scuola è passato. Questo, però, è stato diverso. Il nostro primo anno da liceali. Nuova classe, nuove conoscenze e amicizie. Della prima F ci ricorderemo. Le risate con i compagni. Le uscite dopo scuola. L'ansia per le interrogazioni. L'attesa dei voti. Il caos delle ore buche. Le partite a ginnastica. La gita in Svizzera. Ah, già. Che non abbiamo fatto. Poi, c'è stato il concorso di Schieti G24. Una bellissima esperienza, che ci ha unito di più. In fondo, è stato un bell'anno. E andare in una scuola nuova non è stata la tragedia che inizialmente ci aspettavamo. Perciò, grazie di tutto, raga. Ci rivediamo a settembre. Perciò, grazie a tutti. Grazie per la visione!